Giovedì sera da Ulla la consegna del premio Scarabello a tre figure sportive molto importanti. Assolutamente, è la prima edizione del premio Scarabello. Luigi Scarabello è stata una figura importante del calcio spezzino. Infatti ha vinto la medaglia d'oro olimpica nel 1936 a Berlino. È stato un grande giocatore dello spezza e è stato anche allenatore. È nativo del mio paese di Albiano Magra dove è seppellito. È morto a 91 anni ma ha sempre espresso il desiderio in famiglia di ritornare nel suo paese natale. Le figure premiate sono figure di livello nazionale. Una sotto il profilo calcistico molto legata allo spezia calcio che è il capitano maggiore che ha delle comunque origini anche lunigianesi. Quindi siamo felici di questo forte legame fra la terra di lunigiana come c'è sempre stato anche sotto il profilo del tifo con la spezia. Poi avremo un grandissimo spezzino che ha portato anche delle medaglie d'oro se non direttamente lui ma da presidente della federazione di atletica con le liumpiedi che ci sono state. che è Stefano Mei, grande campione dei 10.000 metri e dei 5.000 metri. E poi abbiamo una terza parte non meno importante da valorizzare visto i grandissimi risultati che ha ottenuto l'Italia alle paraolimpiadi con un atleta che nel 2000-2004 ha avuto degli ottimi risultati vincendo la medaglia d'oro prima nel 2000 a Sydney e nel 2004 a Tene la medaglia d'argento con la squadra del tiro con l'arco. Si chiama Anna Menconi, è di Massa. Abbiamo un'altra parte molto importante che è il memorial Dino Viola ai 30 anni della morte di Dino Viola altre grande figure della lunigiana e di Aulla molto legate al territorio che è stato il presidente della grande Roma la Roma dello Scudetto, la Roma di Pruzzo che sarà presente oltretutto in questa bellissima serata e la Roma anche della finale di Coppa dei Campioni. Proprio in questa occasione inaugureremo il Salone delle Muse che è nel Palazzo Centurione una bellissima sala dove verrà allestita una mostra dedicata alla grande Roma.